c'era una volta all'angolo di una strada una casa vecchia vecchia aveva quasi 300 anni e il conto era presto fatto perché la data stava scolpita sotto al terrazzino incorniciata da un ornato di tulipani e di vitici sopra ogni finestra sull'architrave era scolpito un mascherone e tutti d'accordo questi mascheroni facevano certi versacci il piano superiore sporgeva assai più innanzi del pian terreno e sotto al tetto c'era una grondaglia di piombo con un drago tutte le altre case di quella strada si vedeva subito che non volevano avere niente a che fare con quella vecchia casa forse tra loro avranno pensato per quanto tempo ancora dovremmo vederci d'innanzi quella vecchia topaia dal scandalo a tutta la contrada il terrazzo poi sporge tanto che impedisce di vedere dalle nostre finestre quello che accade in fondo alla via la gradinata è larga come quella di un castello è così ripida che parche meni in cima ad un campanile le inferiate sembrano i cancelli di una tomba di famiglia ed hanno persino le borchie d'ottone che caricatura proprio di contro ad essa stavano alcune casette più nuove e più linde delle altre che la pensavano anch'esse così ma ad una delle finestre era affacciato un ragazzino bianco rosso e paffuto con due occhioni vivi e scintillanti al quale anzi la vecchia la casa piaceva più delle altre tanto alla luce del sole quanto se la imbiancava la luna e mentre guardava giù ai muri dai quali l'intonaco era caduto si divertiva ad immaginare l'aspetto che doveva avere la contrada in antico con i balconi sporgenti e le gradinate e i frontoni aguzzi e gli pareva di vedere i soldati con le alabarde e le docce delle grondaie che andassero in giro per la città sotto forma di grifi e di dragoni era una casa che metteva conto di starla a guardare ed in essa viveva un vecchio signore il quale portava ancora i calzoni al ginocchio come si usava una volta la giubba coi bottoni di ottone e una parrucca che si vedeva subito che era una parrucca ogni mattina un vecchio andava da lui a ripulire le stanze e a fare i servizi del resto il signore dei calzoni corti viveva solo soletto nella vecchia casa talvolta si affacciava ad una finestra e guardava fuori e il ragazzino lo salutava col capo e il vecchio signore salutava il ragazzino e così fecero conoscenza e divennero amici sebbene non si fossero mai detti una parola ma di parole non c'è sempre bisogno un giorno il ragazzino sentì dire con tutti i suoi denari quel povero vecchio qui di contro deve sentirsi ben solo la domenica dopo il fanciullo prese un pezzo di carta preparò un involtino e andò all'uscio della casa antica e quando vide passare il vecchio che faceva servizi al signore sentite vorreste portare questo al vecchio signore che sta di contro a noi io ho due soldatini di stagno ne ho messo uno qui dentro e voglio darlo a lui perché dicono che deve sentirsi tanto solo il domestico parve molto contento e disse sarete servito e portò il soldatino nella vecchia casa più tardi venne con un'ambasciata domandando se il signorino non fosse disposto ad andare a fare visita al suo padrone il genitore diede il permesso e fu così che il ragazzo capitò per la prima volta nella vecchia casa sulla ringhiera della gradinata le borchie d'ottone scintillavano anche più dell'usato si sarebbe detto che volessero fare omaggio al piccolo visitatore e pareva che i trombettieri scolpiti perché sulle porte c'erano proprio due trombettieri che uscivano dal calice di un tulipano soffiassero nelle lunghe trombettieri con quanto fiato avevano mai come quel giorno avevano avuto le gote tanto gonfie vedete che visita c'è e la porta si aperse le pareti dell'atrio erano tutte coperte di vecchi ritratti cavalieri con l'armatura dame vestite di broccato e le armature stridevano e il broccato mandava un certo fruscio poi c'era una scala che andava su 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 e poi giù di nuovo per alcuni gradini e si arrivava ad un'altana che era a dir vero in molto cattivo stato con lunghe fenditure e grandi buchi ma nelle fenditure cresceva l'erba e dai buchi sporgevano le foglie perché tutta l'altana il cortile e le muraglie erano così coperti di verde da apparire un giardino ma giardino non era però era soltanto un'altana e nell'altana c'erano antichi vasi da fiori di strane forme con facce umane ed orecchi d'asino i fiori poi crescevano a modo loro in piena libertà in un vaso i garofani si buttavano proprio da tutte le parti cioè non i garofani ma i gambi verdi e le foglie appuntite e i bocci e dicevano chiaro chiarissimo l'aria ci ha accarezzati il sole ci ha baciati e ci han promesso un fiorellino per la domenica un fiorellino per la domenica poi si arrivava ad una stanza dove le pareti erano tutte coperte di cuoio sul cuoio erano impressi tanti fiori d'oro che facevano un bellissimo vedere il fiore poco dura resta il cuoio se va l'adoratura dicevano le pareti e c'erano maestosi seggioloni dall'alta spalliera con i braccioli di legno intagliato si è di dicevano che scricchiolio mi sento dentro ecco che ora mi verranno i reumatismi come alla vecchia credenza un reuma alla schiena ai il ragazzino arrivò finalmente alla stanza dove era il vecchio signore grazie per il soldatino mio piccolo amico disse il vecchio signore e grazie per essere venuto a trovarmi grazie grazie o cric crac che è lo stesso dicevano i vecchi mobili ed erano tanti che quasi quasi l'uno impediva all'altro la vista del piccolo visitatore nel mezzo pendeva dalla parete un quadro era il ritratto di una bellissima signora giovane e lieta a quanto pareva ma vestita alla moda ad una volta con la cipria nei capelli ed il vestito tutto rigonfio e duro duro come fosse insaldato non disse né grazie né crac ma guardò il fanciullo così dolcemente che gli domandò subito al vecchio signore di dove l'avete presa ah dal rigattiere qui di contro disse il vecchio signore ha sempre lì tanti quadri e nessuno li compera perché son tutta gente morta e sepolta ma molti anni or sono io ho conosciuto questa signora e la pure ora è morta da più di mezzo secolo sotto al quadro dentro una custodia di vetro stava un mazzo di fiori appassiti anche essi dovevano avere certo mezzo secolo almeno così pareva a vederli ed il pendolo del grande orologio continuava a fare tic tac tic tac e le sfere giravano e tutto quello che era nella stanza diveniva ancora più vecchio sempre più vecchio ma nessuno vi poneva lente tac e dicono a casa mia fece il ragazzino che dovete sentirvi terribilmente solo i vecchi pensieri vengono a farmi visita con tutto il corteo che portano con sé ed ora poi che ci vieni tu starò anche meglio prese da uno scaffale un libro di figure ah se ce n'erano lì dentro di belle cose da vedere lunghi cortei di magnifiche carrozze come ai nostri giorni non se ne vedono più soldati in divisa che somigliavano ai fanti delle carte da gioco e burchesi con bandiere spiegate sulla bandiera dei sarti erano raffigurate le forbici tenute da due leoni e su quella dei calzolai non c'era uno stivale ma un'aquila e a due teste per giunta perché i calzolai vogliono tutto sistemato per moto da poter dire eccone un paio ah che libro era quello e il vecchio signore andò in un'altra stanza a prendere certa marmellata e mele e noci si stava proprio d'incanto in quella vecchia casa ma io non posso durarci esclamò ad un tratto il soldatino di stagno che stava nel cassettone è tale una solitudine tale una monotonia quindi quando uno è abituato alla vita di famiglia non può più adattarsi a questo silenzio ma io non posso resisterci la giornata è sin troppo lunga ma la sera poi non termina mai qui non è come nella vostra casa di contro dove la tua mamma e il tuo babbo parlano sempre insieme in pace e in allegria e tutti voi altri cari ragazzi fate un chiasso benedetto che solitudine qui da questo vecchio ci credi che nessuno gli dà mai un bacio che nessuno lo guarda affettuosamente né gli prepara l'albero di natale per lui oramai non prepareranno che una fossa bimbo mio non ci posso durare ma non devi guardare le cose dal lato più malinconico disse il ragazzino a me tutto sembra piuttosto bello anzi e poi tutti i vecchi pensieri vengono a fare le loro visite col corteo che si trascinano dietro sì ma io non li vedo non li conosco io credimi non ci resisto eppure bisogna disse il fanciullo il vecchio signore torna dalla stanza accanto tutto sorridente portando le più squisite frutte in composta e mele e noci in abbondanza e allora il ragazzo non pensò più al soldatino e se ne andò a casa beato e contento passarono i giorni e le settimane e ci fu grande scambio di saluti tra la vecchia casa e la casa del ragazzino poi egli riattraversò la strada e tornò un'altra volta dal suo vecchio amico i trombettieri scolpiti suonarono di nuovo le sciabole e le armature tintinnarono le vesti di broccato delle dame salutarono col fruscio il cuoio ne disse delle sue ed i seggioloni intagliati si lamentavano dei reumatismi alla spalliera tutto tal quale preciso identico come la prima volta perché là dentro ogni giorno ogni ora era identica alle altre non posso durarci disse il soldatino ho pianto lacrime di stagno preferirei andare alla guerra e perderci le gambe e le braccia almeno sarebbe un diversivo non ci posso durare ho imparato ora non dubitare che siano le visite dei vecchi pensieri e so il corteo che portano con sé i miei vengono a trovarmi ma ti so dire io che alla lunga sono un certo spasso sono stato sul punto di buttarmi dal cassettone vi vedevo tutti voi altri dalla casa di contro ma proprio come se foste stati qui era domenica mattina e tutti voi figlioli stavate intorno alla tavola cantando in coro la bella preghiera che vi ha insegnata il parroco nuovo ed eravate tutti a mani giunte composti e il babbo e la mamma seri e raccolti pregavano anch'essi con voi la porta si è aperse e dentro la mimma quel che ha due anni e si mette a ballare qualunque musica senta di qualunque genere non era il momento ma lei si mise senz'altro a ballare sebbene non riuscisse a prendere il tempo giusto perché il canto era troppo lento stava prima su una gamba e si chinava tutta tutta da un lato sin quasi a terra ma anche così il passo non era mai lungo abbastanza voi tutti siete rimasti seri eppure se non era tanto facile ma io risi dentro di me e caddi giù dalla tavola e ci guadagnai una sbucciatura che io c'ho ancora il segno perché non stava bene di ridere in quel momento ma tutto ciò e quant'altro mai ho provato in vita mia mi si riaffaccia ora come visione interiore e devono essere questi i vecchi pensieri e il corteo che portano con sé dimmi cantate sempre in coro la domenica raccontami qualche cosa della mimma e come sta il mio camerata l'altro l'altro soldatino di stagno lui sì che deve essere felice ma io io non ci posso durare tu sei stato donato disse il ragazzino e devi rimanere dove sei non lo capisci questo il vecchio signore entrò con una cassetta in cui erano tante cosine da vedere barattolini di belletto e boccette di essenze e vecchie carte da gioco così grandi e con tante dorature come oggi non se ne vedono più e molte scatole e astucci furono aperti e fu aperto anche il pianoforte che aveva all'interno un coperchio ornato di paesaggi ma il pianoforte era proprio fioco quando il vecchio signore si mise a suonare murmurando come tra sé il motivo di una vecchia canzone ah quella si sapeva cantare esclamò e volse il capo al ritratto comprato dal rigattiere e gli occhi gli si inumidirono voglio andare alla guerra voglio andare alla guerra gridò il soldatino quanto più forte poté e si buttò a capofitto dal cassettone dove era andato il vecchio signore cercò il ragazzino cercò ma s'era così ben riposto che non fu possibile di ritrovarlo oh lo troverò io disse il vecchio signore ma non lo trovò mai più il pavimento era così scrostato e pieno di buchi che il soldatino era caduto dentro ad una fenditura e là era rimasto come in una fossa aperta terminò la giornata ed il ragazzino andò a casa e passò la settimana e passarono molte altre settimane le finestre avevano i vetri appannati dal gelo sicché il fanciullo doveva soffiare un po' del suo alito caldo contro il vetro per aprirsi uno spiraglio e poter guardare la vecchia casa la neve era penetrata a livellare gli intagli e le sculture aveva coperto le iscrizioni ed anche sulla gradinata era alta alta come se la casa non fosse più abitata e in realtà nella casa non c'era più alcuno perché il vecchio signore era morto la sera un carro si fermò dinnanzi al portone e il pover uomo ci fu messo dentro chiuso in una cassa lunga e stretta doveva andare a riposare nella tomba della famiglia in campagna così fu portato via ma nessuno lo accompagnò nell'ultimo viaggio perché tutti i suoi amici erano morti soltanto il fanciullo mandò un bacio con la manina al feretro mentre il carro funebre si allontanava pochi giorni dopo si fu un'asta nella vecchia casa e dalla sua finestra il fanciullo vide portar via gli antichi guerrieri e le dame ed i vasi da fiori con gli orecchi d'asino e i seggioloni e le grandi credenze un oggetto fu portato qua un altro là il ritratto di lei fu ricomprato dal regattiere e tornò nella bottega dove rimase appeso nessuno conosceva più la signora né si curava di averne il ritratto in primavera anche la casa fu demolita perché la gente diceva che era una vecchia topaia dalla strada si vedeva per entro nello squarcio sino alla stanza dalle pareti di cuoio istoriato dei suoi cuoi strappati e lacerati rimaneva ancora le pareti qualche lembo e la verzura dell'altana pendeva abbandonata sopra i maschironi degli architravi che minacciavano rovina poi dove era la vecchia casa non si vide più che una spiazzata fu costruita una casa bellissima con grandi finestre muraglie bianche lisce lisce e davanti proprio dove sporgeva la vecchia casa fu piantato un giardinetto e un'alta vite rigogliosa si arrampicò sul muro vicino davanti al giardino fu rizzata una cancellata con un bel cancello che diede a tutto il complesso un aspetto signorile la gente si fermava e guardava dentro la cancellata i passeri si posavano a dozzine sulla vite e chiacchieravano tutti insieme quanto più forte potevano ma non chiacchieravano della vecchia casa perché di quella non potevano ricordarsi tanti anni erano passati tanti che il ragazzino sarà fatto uomo e un bravo uomo che formava la gioia ed il sostegno del suo babbo e della sua mamma aveva appreso moglie da poco ed era venuto ad abitare con la sposa proprio la casa di contro alla sua la casa che aveva dinnanzi il giardinetto un giorno stava per l'appunto nel giardino con sua moglie e la guardava piantare un fiorellino di campo che ad essa pareva tanto bellino la signora aveva piantato il fiore e con le piccole mani premeva la terra intorno alla radice ai che c'è sera punta fuori dalla terra molle sporgeva qualcosa di acuminato ma pensa o non era il soldatino di stagno lo stesso soldatino che era andato smarrito nella stanza del vecchio signore e prima era rimasto per tanti anni nascosto tra le macerie e le spazzature e poi sotterrato per tanti e tanti ancora la giovane signora lo ripulì dapprima con una foglia verde e poi col suo bel fazzolettino delicesamente profumato quel profumo destò il soldatino sì che gli parve di riaversi da un lungo svenimento lasciami vedere disse il marito e sorrise e scosse il capo a mi pare impossibile che sia quello eppure mi rammenta una certa storia di un soldatino di stagno quando ero un bambinetto e raccontò della vecchia casa e del vecchio signore e del soldatino che aveva mandato per compagnia al povero uomo perché non si sentisse più tanto solo al pensiero della vecchia casa e del vecchio signore la sposina si intenerì può darsi dopo tutto che il soldatino sia quello chissà disse lo conserverò io e mi rammenterà tutto ciò che mi hai raccontato ma devi farmi vedere la tomba del vecchio signore e non so dove sia rispose il marito e nessuno lo sa tutti i suoi amici erano morti e nessuno ebbe cura della sua tomba io allora ero tanto bambino ah che solitudine terribile deve essere stata quella eh sì proprio terribile disse il soldatino ma non essere dimenticati è una gioia grande grande ripete una voce lì accanto nessuno però all'infuori del soldatino si avvide che la voce veniva da un lembo dell'antica tappezzeria di cuoio che aveva perduto ora ogni traccia di doratura sembrava un mucchietto di terra bagnata eppure aveva la sua idea e volle esprimerla se va via la doratura resta il cuoio e quello dura ma il soldatino di stagno non gli viede retta se va via la doratura resta il cuoio e quello dura stretta è la foglia larga è la via voi dite la vostra io ho detto la mia grazie a tutti